Salve a tutti, io sono Linda Meleo, sono una ricercatrice in economia applicata e sono l'assessore alla città in movimento. Nel corso degli anni della mia carriera accademica ho maturato una grande expertise nei sui temi dell'economia dei trasporti, sulla gestione delle public utilities, sulle network industries, sull'ambiente e anche sull'energia. Ed è proprio per questo, con questo mio incarico, voglio mettere a disposizione della città tutte le mie competenze e le conoscenze per ridare a Roma la dignità che merita in quanto capitale d'Italia, capitale anche del mondo da un punto di vista storico e turistico. Quindi il mio obiettivo è quello di cercare di gestire da un lato le emergenze che si sono accumulate nel corso degli anni e che necessitano quindi di interventi profondi e importanti e dall'altro avviare un'attività di programmazione importante che in certo qual modo ridia una veste nuova a Roma e quindi trasformi completamente i sistemi di trasporto e di mobilità in senso più generale. Quindi anche questo privilegiando i temi legati alla sostenibilità nel trasporto, l'accessibilità e la possibilità quindi di sostituire gradualmente l'uso dell'auto privata al trasporto pubblico. A breve avrete informazioni di tutte le attività che sono in corso di programmazione, continuate a seguirci.